C'è anche una fetta della provincia di Salerno in Afghanistan, ci sono ragazzi figli di una terra aspre forte che ha generato uomini abituati a lottare per la sopravvivenza, uomini che sono partiti perché nel loro pezzo batte un cuore generoso, il cuore di cui vuol dare un futuro migliore a se stessi e agli altri. Eccoli i cilentani in Afghanistan. Dopo un'intensa giornata, raccontano, fredda per la stagione invernale passata a svolgere i nostri incarichi, c'è chi fa l'autista, chi il fuciliere, chi il meccanico, chi il cuoco, ci siamo ritrovati davanti al piccolo bar dell'avamposto per consumare tutti insieme una bevanda calda. In questi momenti, tra commilitoni appartenenti a diversi riparti in Italia ma impiegati nella testa task force in Afghanistan, ci si racconta delle esperienze diverse, quelle che fanno crescere professionalmente e umanamente. Abbiamo ragionato, raccontano i ragazzi del cilento, su quanto sia duro stare qui, ma sappiamo quanto è importante il nostro impegno. La motivazione di essere soldati è diversa per ciascuno, ognuno ha le sue ragioni, anche quelle economiche, perché no? Alla fine ci siamo detti che la ragione principale di tutti è il gran desiderio di servire un ideale di pace. Ciascuno di noi sente dentro di sé un grande bisogno di contribuire a portare la pace in questo paese, un po' di regole in questa terra amatoriata. O là si è fatto tardi, ci siamo accorti che bisogna tornare nelle tende, ma siamo più contenti, abbiamo ritrovato un po' la casa nostra. Domani il sole sorgerà ancora sul territorio afgano e noi cilentani, dice ciascuno del gruppo, saremo qui, pronti di buon mattino, preparati a sfidare gli eventi per cercare di garantire un giorno migliore a noi e agli afghani.